Prima edizione del Pietrarossa Bellini Music Festival dal 3 settembre al 12 ottobre a Caltanissetta. 19 masterclass affidate a 32 illustri musicisti, 4 seminari, 14 concerti tenuti dei musicisti che sono anche docenti. Festival che nasce dalla rete guidata dall'Istituto Vincenzo Bellini con 13 partners. È un'iniziativa di carattere culturale e formativa avviata dal nostro istituto in collaborazione con i partner istituzionali per sperimentare un percorso di rete che coinvolga tutti gli attori del territorio nella riuscita di un progetto sinergico che stiamo istituzionalizzando quest'anno, quindi il Festival Pietrarossa Bellini e che ci proponiamo di ripetere in edizioni successive, chiaramente come evento del territorio. È chiaro che noi siamo l'ente organizzatore, l'ente promotore, di questo ne siamo felici. È stato uno sforzo notevole soprattutto perché è nato a maggio proprio come voglia di reagire alla pandemia. L'obiettivo è quello di formare talenti e eccellenza. La direzione artistica è curata dal maestro Angelo Licalzi. Noi abbiamo coinvolto diversi musicisti provenienti da tutte le orchestre più importanti che ci sono in Europa per realizzare delle masterclass a livello accademico, alle quali masterclass partecipano sia i nostri studenti interni che molti studenti provenienti da tutta l'Italia. Già abbiamo avuto più di 100 iscrizioni, quindi ci sono anche i cinesi, ci sono anche i coreani. Nell'ambito di queste masterclass è stato stilato anche un ciclo di concerti tenuti dai maestri delle masterclass. Il festival prevede le esibizioni di studenti che si esibiranno in concerti.